A Tiosceni, luogo pubblico a Bacoli, un uomo è stato sorpreso mentre si masturbava nella giornata di ieri davanti agli occhi sconvolti di un bambino e alla sua mamma. È successo nel tranquillo comune di Bacoli, dove i carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno arrestato un 53enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato sorpreso sulla scogliera nei pressi del Lido Enea, in via Lido Miliscola, mentre si masturbava davanti agli occhi atterriti di un bambino di 6 anni insieme alla sua mamma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno bloccato e arrestato per corruzione di minorenne. L'uomo è ora in carcere in attesa di giudizio. L'accaduto ha suscitato sconvolgimento tra la popolazione, considerando che l'episodio è avvenuto in una spiaggia frequentata abitualmente da migliaia di famiglie con bambini, uno dei luoghi più suggestivi e frequentati dell'area flegrea.